Musica Primo punto di stagione per ambedue le formazioni che al Civitale di Agnone regalano una partita vale di emozioni, specie nella ripresa. L'Agnone in merito di giocare meglio ma di non incidere, i Cattoliche invece guadagna quel punto che permette a Cassione di lavorare più serenamente in vista del futuro, nell'ordine. Al tredicesimo il cross Nicolao si dimostra subito vincente per la testa puntuale di Acosta che batte l'estremo ospite per l'1-0 dell'Agnonese. Al tredesimo il Cattolica risponde con Pasquini che chiama la deviazione in corner all'attento Meri. Al tredesimo da calcio piazzato il Cattolica perviene al pareggio, alla battuta va Stallone che in becca Sissè che è lasciato solo colpevolmente in area locale, trova la zappata vincente per l'1-1 e secondo gol in campionato per il Cattolica dopo quello siglato in trasferta a Matelica. Nella ripresa i ritmi sono blandi, al quattordicesimo Milacori ci prova di testa, Aglietti blocca senza problemi. Al ventunesimo l'Agnonese prova a sbloccare la situazione direttamente a calcio piazzato con la battuta di Pejic che si perde alta. Al tredesimo sempre da calcio piazzato i padroni di casa provano in pensiero la porta difesa da Aglietti ma a costa non c'entra il bersaglio. Proteste locali invece al novantesimo, Milacori viene trattenuto in area di rigore. I Granata vorrebbero i penalty ma l'arbitro fa seno di proseguire. Il replay ci aiuta a capire meglio la situazione. L'1-1 finale rispecchia una gara non certamente emozionante ma che dà quantomeno delle risposte ad entrambe le formazioni.